Il Palermo saluta per l'ultima volta il suo bomber Danino Troia, una chiesa gremita con tanti palerbitani, ma anche con tanti ex compagni di squadra che lo hanno voluto salutare per l'ultima volta. Era il Palermo dell'ultima serie A pre-Zamparini, ovvero quella del 73, ed erano tante persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta chi ha dato lustro alla squadra rosa-nero in serie A, chi ha ovviamente, ed è un simbolo di Tora, di una palerbitanità e della squadra rosa-nero. Questo è il saluto e il domancio che il Palermo ha fatto a Tremonti.